La parola urticante che ho scelto per questa settimana è verità. Verità è una parola complicatissima, difficilissima. Sono 2500 anni che i filosofi ne discutono senza arrivare ad un punto concorde di definizione. Diciamo che dal V secolo, dai presocratici, da Platone, da Parmenide in particolare, poi con Platone, con Aristotele e successivamente nella filosofia medievale e poi attraversando i secoli ovviamente, la filosofia ha cercato risposte alla domanda qui destro di Eritas, che cos'è la verità. È evidente che in pochi minuti questa traiettoria filosofica è difficilmente condensabile, sintetizzabile. Tuttavia io l'ho scelta perché c'è un punto che riguarda ai nostri giorni una grande questione. Come si fa a discernere la verità in politica e nell'informazione? Diciamo la verità. Con l'introduzione dei mezzi di comunicazione di massa, in parte la verità nell'opinione pubblica tra le persone è diventata ciò che si pensa, ciò che si dice, non ciò che è. Nel ventunesimo secolo, in sostanza, c'è una verità che in qualche modo recupera l'idea di Wittgenstein, un celebre filosofo del Novecento, per cui esiste una certezza che viene data dalla matematica e dalla fisica, ed esiste una verità logico-propositiva, cioè una verità che appartiene al linguaggio, all'uso comune del linguaggio. Questo tipo di verità vorrei analizzare, questo tipo di verità che si scontra molto spesso con ciò che è menzogna. Anche oggi siamo di fronte al cosiddetto paradosso del mentitore di origine stoica. Cosa dicevano gli stoici? Se io mento e dico la verità, cosa faccio? Mento o dico la verità? È il tema dei nostri giorni. Con l'introduzione dei social, spesso la verità è ciò che si dice, ciò che si scrive sui social, e quella diventa appropriazione, diciamo così, di un'intero, di una parte dell'opinione pubblica. E in base a quello, in base a ciò, in base a questa verità che viene in qualche modo proferita senza alcun tipo di sostanza e di sostegno scientifico, si aprono dibattiti e si creano fidelizzazioni e supporte. Che cosa è successo negli scorsi anni? Con la pandemia abbiamo visto come parti di verità, di certezze scientifiche siano state messe in dubbio. Oggi vediamo, o dopo la pandemia, vediamo come alcune certezze relativamente a ciò che accade nel mondo, ma mi riferisco evidentemente alla guerra, sono messe in dubbio dal fatto che noi abbiamo degli inviati che giornalisticamente ci raccontano ciò che accade. Ma che cos'è che accade? Accade ciò che loro vedono dinanzi ai loro occhi e tuttavia ci raccontano la guerra. La differenza tra l'inviato speciale della Seconda Guerra Mondiale, ad esempio, con gli inviati speciali nella guerra dell'Ucraina è tutta qui. Gli inviati speciali, penso ad Hemingway, ad esempio, durante la guerra civile in Spagna, che raccontava singoli microcosmi di vita bellica e non ne faceva mistero, non aveva ogni volta la necessità di spiegare che cosa fosse quella guerra civile. Oggi invece abbiamo ribaltato il concetto per cui l'inviato speciale di un quotidiano, di una televisione, di un TG, decide egli che quella parte che racconta è esattamente la guerra. Un altro grande giornalista che ha fatto scuola, ad esempio, è Sergio Zavoli, che ha raccontato tante cose, che ci ha illuminati, ci ha aperto il mondo, e anche Sergio Zavoli era convinto che quello spezzone di racconto, di narrazione, di testimonianza, era testimonianza di una parte del tempo vissuto. Non era il tutto. Bene, che cosa accade con i social? Accade che quello che io vedo, quello che io so, quello che io dico, diventa verità, probabilmente in termini assoluti. C'è questa confusione che non è soltanto di natura linguistica, ma è concettuale. Dinanzi a questa mistificazione della verità, noi dobbiamo fare molta attenzione. Molto spesso il senso critico ci abbandona e siamo magari convinti che ciò che si dice è la verità e non sottoponiamo mai quelle proposizioni ad un'analisi accurata, sia di ciò che le muove, le motiva, le proposizioni, sia cosa nascondono davvero. È il grande paradosso del nostro tempo. Se io mento, dico la verità, oppure no. La costruzione della realtà di questo tempo, di questo ventunesimo secolo, è sottoposta, diciamo così, a questo attacco. Non si può più vivere senza discernimento. È accaduto, ed è questa la ragione per cui io ne parlo anche quest'oggi, è accaduto ad esempio che l'interpretazione di grandi manifestazioni per la pace sia diventato l'elemento con cui non raccontare ciò che accadeva, per cui decine e decine di migliaia di persone manifestavano per la pace. È diventato invece qualcosa di diverso e nel racconto giornalistico noi abbiamo vissuto praticamente una distorsione della verità. Ci siamo trovati di fronte a narrazioni diverse da ciò che accadeva, da ciò che era accaduto e dalle parole che venivano espresse in quella sede. non solo sabato 5 novembre, nella grande manifestazione romana, ma in tutto quel coacerbo di idee che si esprimono contro la guerra. Tutto ciò è retorica e demagogia? No. Tutto ciò è costruzione volontaria di una verità, non della verità, solo che questa una verità passa per essere la verità in termini assoluti. Bene, io credo che l'umanità di questo squarcio di secolo dovrebbe ragionare ancora di più sul termine verità in politica e nel sistema dell'informazione, perché la nostra vita dipende molto dalle informazioni, dalle tante informazioni che riceviamo quotidianamente e che però non riusciamo mai a controllare. Ecco allora che la verità diventa, che la doxa, cioè l'opinione, per usare un termine greco, diventa verità. Come uscire da questo impasse è il racconto che prepara a fare la settimana prossima. La verità e l'opinione. La prossima parola sarà appunto questo scontro dialettico dinamico in questo secolo tra l'opinione che diventa verità, sulla base dei mezzi straordinari di informazione che abbiamo oggi che purtroppo stentiamo a controllare.